ciao ragazzi dimitri coach in crossfit bicocca oggi andiamo a vedere un workout che comprende una prima parte di forza dove andremo a fare 5 dip col sovraccarico agli anelli a tre circuiti da quattro minuti abbiamo 27 american swing 27 wall ball 27 calorie alla bike provocatore abbiamo quattro minuti di rest per poi riprendere altri quattro minuti amrap con 21 21 21 american swing wall ball e calorie quattro minuti di rest andiamo a 15 ripetizioni di american swing di wall ball e calorie quindi per fare questo world come potremmo iniziare possiamo iniziare con un riscaldamento generale fatto a team dove il partner 1 siederà sul vogatore o alla bike e il partner 2 mentre il partner 1 al vogatore alla bike completa le 10 calorie andrà a fare un max effort di bar così per due round quindi a rotazione una volta riscaldati in modo generale andiamo a vedere i weighted dip quindi propedeutica sulla tenuta agli anelli quindi salto verticale tenuta e discesa un pochino più lenta quindi facciamo una negativa in questo modo facciamo cinque ripetizioni a cambio sempre per poi se riesco a mantenere le mani attaccate ai fianchi nonché fare la negativa e tornare su aumentare il carico quindi ad arrivare a un carico massimale sulle cinque ripetizioni completata la parte di forza andiamo a vedere un warm up specifico su quello che sarà poi il quad possiamo partire con avendo gli american swing 10 russian quindi che è il bella terra swing che arriva ad altezza occhi 10 ripetizioni questo per due giri dopodiché wall ball possiamo partire con le wall ball per poi tornare indietro abbiamo 10 mad ball squat su seguite da 10 mad ball thruster senza lasciare la palla andiamo avanti facendo 10 wall ball andiamo ai calorie 5 calorie veloci a cambio per poi tornare alle kettlebell e andare a fare 10 american swing quindi la kettlebell da sotto modo esplosivo distensione completa delle gambe apertura dell'anca distensione completa delle braccia sopra nostra testa per poi tornare giù in modo esplosivo riportarla verticale così dieci volte a cambio con il partner completato questo warm up specifico quindi prima un warm up generale poi specifico focalizzato su quelli che sono i movimenti del che andremo a fare nel world possiamo partire con il vuoto vero vero e proprio enjoy ciao